ciao ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi video acquisti vi mostro cosa acquistato dal sito di doitu da amazon e anche da aliexpress parto con mostrarvi quelli di doitu ne ho approfittato del mio codice sconto giure35 per avere appunto il 35 per cento di sconto su questi prodotti quindi se volete utilizzarlo anche voi fatelo ve lo lascio in descrizione sul sito di doitu come vi ho già parlato in passato troverete tantissime cose come tantissimi elementi swarovski rocaille della migyuki in confezione da 20 grammi anche da 100 quindi molto convenienti poi anche piattine filati cioè c'è un mare mare di cose quindi vi lascio il link in descrizione anche del sito ma anche di tutti i prodotti che adesso vi mostrerò quindi ho approfittato del mio codice sconto per prendere questo qui questo colore per vetro della pebeo il vitrail in colorazione oro era da tempo che lo volevo ci sono anche altre colorazioni però preferito oro perché adoro questo finish e poi pensavo di andare a utilizzarlo con la resina ovviamente una volta asciulta per dare quel tocco in più ai vassoietti o anche ad altri elementi appunto realizzati in resina quindi ho preso questo qui e non vedo l'ora di utilizzarlo con le creazioni in resina poi parlando sempre di resina ho approfittato per prendere anche la confezione da 100 grammi della resina ovvi ho preso questa qui della rischimica e appunto utilizzando il codice giure 35 l'ho pagata proprio niente quindi quindi ottimo e ovviamente c'è anche quella epossidica sul sito questo è appunto la fil crystal ovvi dell'aria schimica e appunto nel flacone da 100 grammi mi trovo benissimo con questa resina in passato l'ho acquistata in flaconi molto piccoli da 25 grammi quindi adesso ne ho fatta scorta e ho preso questa qui direttamente da 100 grammi già con questa qui piccolina ho realizzato tantissime creazioni in resino ovvi con questa grande sicuramente riuscirò a fare tantissime altre creazioni quindi ho preso questi due prodottini dal sito di due tu e vi lascio in descrizione sia il link di questi prodotti e anche il codice sconto se volete approfittarne anche voi poi su amazon ho preso oltre ai fiori secchi che tra un po vi mostro ho preso anche delle cuffie che ho dimenticato di portare con me in questo preciso momento quindi vabbè ve lo dico a voce sono delle cuffie senza filo dell'axiomi davvero molto molto valide io cercavo da tempo delle cuffie senza filo perché quelle di col filo mi intralciano per ascoltare la musica anche per rispondere al telefono e queste qui sono validissime lo pagate pochissimo ma sono davvero ottime la batteria dura tanto si sentono bene all'interno della confezione escono tre tipi di dimensioni di cuffiette sono davvero molto molto valide quindi vi lascerò il link in descrizione se per caso anche voi state cercando un paio di cuffie senza fili scusate se non ve lo mostro ma le ho dimenticate poi adesso vi mostro i cieli secchi che ho preso sono questi qui questi appunto li ho presi da amazon e poi ci sono quelli lì che ho preso anche su aliexpress dopo ve li mostro mi mostro anche quelli questi sono davvero molto carini l'unica cosa che non riesco a sopportare dei cieli secchi è l'odore l'odore troppo pungente per i miei gusti però questi come li utilizzerò per la resina e sono davvero molto carini colori molto delicati cioè ci sono questi ci sono questi con la fogliolina un po più grande sempre colorazione lilla non so i nomi dei fiori quindi sarà tutto un questo 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 poi c'è questo qui gigante molto carino i miei preferiti di questa confezione sono questi sono davvero adorabili questi me li immagino già nello stampo che tra poco vi mostrerò preso da aliexpress che è spettacolare poi c'è anche questa pignetta molto molto carina piccina piccina poi ci sono questi bianchi ci sono delle foglioline sia grandi che piccole queste sono le piccine e queste sono quelle un po più grandi eccole qua ci sono questi qui rossi che più o meno sono questi ce ne sono diversi dei miei preferiti quindi adoro e poi ci sono questi qui puccini bianchi niente questi sono tutti i fiorellini dentro la confezione appunto presi dal sito di amazon vi metterò anche questo il link in descrizione e adesso vi mostro quelli presi da aliexpress sono diversi ovviamente e sinceramente mi piacciono di più questi qui di amazon per i colori e anche per la forma questi ho preso appunto dali ed eccole qui ci sono delle foglioline verdi un bel po di fogliolini verdi poi ci sono sempre l'odore molto pungente ci sono questi qui che sono tipo una sorta di grigio grigino tendente al bianco bianco sporco dai sono fatti in questo modo con quattro petali poi ci sono anche in questo caso qui delle foglioline queste qui sono tipo screziate sono carine queste particolari poi c'è questo qui mezzo panna e mezzo turchesino ci sono questi qua arancio un altro un altro fogliolina questi arancio e le fogliolone queste qui giganti l'odore come dicevo prima sempre molto pungente e questi sono quelli lì appunto presi dali ripeto preferisco quelli di amazon per i colori anche anche la verità del tipo di fiorellino perché ce n'erano diversi diverse tipologie all'interno poi adesso vi mostro le altre cosine prese sempre da aliexpress poggio i fiori secchi qui ho preso un nuovo tappetino in silicone questa volta l'ho preso rosa che ovviamente deve essere tutto rosa quindi preparatevi per i prossimi tutorial di resina resino v o resina ipositica col tappetino rosa shocking e poi ho preso sempre da aliexpress questo questo scotch che serve appunto per realizzare le creazioni il resino v con i bezel e quindi ho preso questo finalmente questo scotch qui perché di solito utilizzavo lo scotch quello normale però quello normale un pochettino si stacca questo sembra molto molto resistente quindi devo ancora provarlo però l'ho visto ad altre creative in altri video quindi ho deciso di prenderlo anch'io e poi l'ultimo credo l'ultimo prodottino di aliexpress si è questo qui è lo stampo lo stampo davvero molto molto bello già ovviamente già ho aperto tutti i pacchetti perché c'era l'indirizzo mio ovunque una cosa che adoro ultimamente di aliexpress non so se anche a voi è così ma tutti i pacchettini che ho preso ovviamente erano dei rivenditori separati tutti quanti diversi però arriva il pacchetti un unico pacchettino unico con tante bustine all'interno di tanti rivenditori diversi quindi sto adorando questa cosa non so se anche voi è così ma la trovo davvero comoda invece di aspettare ogni singolo pacchetto vengono riuniti tutti quanti in una busta gigante con tutti i vari pacchettini quindi lo trovo davvero utilissimo come cosa e ho preso questo stampo questo stampo davvero molto molto bello non vedo l'ora di colarlo in pratica è fatto in questo modo non so se riesco a rendere l'idea proprio ad alzare un pochettino alla videocamera ed eccolo qua questo è lo stampo è tipo un portaconfetti ma ci si può mettere davvero di tutto perché poi è bello è bello grande ed è tutto sfaccettato quindi sarà tutto bello lavorato vedete con questa sorta di decorazione molto bello già me lo immagino un po trasparentino qualche con qualche glitter all'interno e non vedo l'ora di colare la resina qui dentro tra l'altro vi ricordate il mio fiorellino questo qui preferito questo qua questo lo immagino proprio all'interno della punta di questo stampo quindi spero di riuscire a fare entrare quel fiorellino all'interno di questo spazietto per poter poi avere qui sul tappo questo fiorellino in con ovviamente la resina trasparente resina trasparente questo fiorellino che si nota e ovviamente sotto cercherò di fare un colore molto tenue tipo sempre un lilla mischiato appunto con un po di oro con qualche glitterino sempre una cosettina un pochettino un po un po preziosa ecco e non vedo l'ora di colare questo stampo quindi volete un video dove vado a colare questo stampo o non vi interessa fatemelo sapere nei commenti io spero che i miei acquisti siano stati di vostro gradimento vi ripeto vi lascio tutti i link in descrizione con tutti i vari rivenditori ma anche tutti i link dei vari prodotti vi lascio anche il codice per il sito di do itù giulia35 se volete approfittare appunto del 35 per cento di sconto su tutti gli articoli anche quelli già scontati perché quando ho preso io la resina questa qui la fil crystal già era scontata e ho avuto un ulteriore sconto appunto con il mio codice quindi ottimo quindi se volete fare incetta e acquisti pazzi sul sito di do itù vi lascio il codice sconto in descrizione io spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con un nuovo video ciao ciao a tutte